Quattro volumi che, pur rappresentando un'opera imponente, non riescono a contenere tutto il coraggio e la sofferenza vissuti per 70 anni dai cattolici nei paesi dell'Europa centro-orientale. Sono lavoro di ricerca e di raccolta documentaristica che il professor Ian Mikrut, docente di storia della Chiesa presso l'Università Gregoriana, ha realizzato e pubblicato in occasione del centenario della rivoluzione d'ottobre e che per la prima volta raccontano e documentano quanto è successo oltre Cortina. In questi quattro volumi volevamo presentare lo sviluppo della Chiesa Cattolica in cosiddetta zona sovietica, cioè quella zona che fu costruita dopo 1945 quando l'esercito tedesco ha occupato una gran parte dell'Europa e poi questo diventa la cosiddetta zona dell'Europa centro-orientale. Abbiamo raccolto le informazioni essenziali, quelli per gli studiosi, per gli studenti, ma anche per le persone che lavorano nella diplomazia vaticana, perché anche quelli che sono come inunzi o che lavorano nelle inunziature devono andare nei paesi dove non conoscono la storia per capire anche le strutture, le persone, le istituzioni che sono nate qua. Abbiamo ricevuto un grande numero delle testimonianze da parte proprio del corpo diplomatico della Chiesa. Tra i quattro volumi pubblicati, uno è dedicato in particolare alla storia della Chiesa Cattolica in Unione Sovietica, segnata dallo sterminio del clero e dei fedeli cattolici, ortodossi e di ogni altra confessione. Il concetto metodologico era una collaborazione con i studiosi che provenivano da questi paesi. Prima abbiamo stabilito il numero dei paesi, abbiamo accolto tutti i paesi dove c'erano i governi comunisti nella zona sovietica e poi abbiamo cercato i collaboratori che hanno proposto la loro esperienza, la loro visione della storia della Chiesa in questi paesi. La presentazione dell'opera Verona è un omaggio a un grande sacerdote veronese, Don Bernardo Antonini, che dal 1989, dalla caduta del muro, lavorò alla rinascita della Chiesa Cattolica russa. Don Bernardo ha dato la possibilità a Verona veramente di aprire gli occhi su quel mondo, soprattutto le parocchie, perché grazie a Don Bernardo tanti preti Pasqua e Natale vengono per esempio per aiutare, magari studiano a Roma e vengono su per passare dei giorni qui e anche durante l'estate. Il pontificato di Giovanni Paolo II era essenziale per questo periodo, abbiamo visto che il suo modo di agire, di parlare, di lavorare era molto preoccupante per le autorità sovietiche e per l'intero sistema sovietico. Per questo motivo naturalmente la popolazione del mondo poteva avere una portavoce che parlava della Chiesa, del silenzio, in una zona dove non si poteva in modo libero esprimere né sentimento religioso né una ideologia della vita diversa come quella proposta dai marxisti. Grazie a tutti.